buongiorno oggi sabato 24 giugno siamo qui per festeggiare la notte bianca a saronno io sono veronica del veronica bistro ovviamente e ci sono qui con me walter barman giuli che è la mia aiutante nel nostro locale che si chiama veronica bistro in via caroni 6 abbiamo un aperitivo a buffet e poi avremo un servizio della cena con un menù dedicato alla serata e in più avremo della musica dal vivo e suoneranno per noi i on the road quartet aspettando che inizi la notte bianca troviamo un personaggio notissimo però in una veste insolita vediamo qualcosa riguardo alla sua attività principale e vediamo cosa si dice a proposito dell'ultimo suo libro il dolce in un secondo saluto gli amici di piero da saronno sono samuele calzari chef in questo momento invece è in veste di volontario di croce rossa il libro va molto bene per cui abbiamo fatto diverse presentazioni in mondadori qua saronno piuttosto che anche insomma da altre parti vanno avanti i corsi va avanti l'attività su radio reporter la domenica mattina alle 11 per dare la ricetta della settimana e quindi a tutti voi una dolce notte bianca e una buona continuazione di estate allora però carissimi amici da casa non sono chiaramente qui da solo ma c'è tutta una squadra al completo di supporto per questo evento e per questa iniziativa allora quindi iniziamo con il gruppo radio amatori che ci supporta per quello che è la le comunicazioni radio esatto noi facciamo comunicazioni radio e cerchiamo di dare una mano un po a tutti insomma ecco ti chiami carlo ok quindi c'è tutto un gruppo in totale siete siamo nove radiomatori questa sera quindi salutiamo anche tutto il gruppo dei radiomatori che ci supporta per le comunicazioni c'è poi scusami c'è poi quindi l'associazione nazionale carabinieri sei sono giuseppe siamo in 15 persone cerchiamo di essere utili in queste serate dove c'è tanta gente che chiede informazione ma soprattutto anche osservare un po l'andamento della sicurezza che oggi in questo periodo è interessantissimo che ci sia qualcuno quindi grazie anche a giuseppe andiamo avanti così chiudiamo la carrellata anche con con salvatore sempre dell'associazione carabinieri ed è qui in supporto da carondo per tusella con i colleghi di saronno perfetto e quindi l'ultimo collega di croce rossa invece ti chiami sono claudio siamo qua a supporto sanitario speriamo di non intervenire però siamo pronti a tutto e allora vi invitiamo ripeto a passare una bellissima notte bianca amici di pietro da saronno un carissimo saluto da samuele calzari ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.